Sì, si no, perché se spiegate è meglio, così capisciamo come funziona. Buongiorno. Appena messo qua, giù. Eeeh, roba poco, ecco quando tu dici poco. Sì, ma non importa. Roba poco. Buongiorno. Eccolo. Buongiorno. Buongiorno. E tu hai fatto il formaggio e quella ricotta. Per quanto tempo? Eeeh, ci vuole una buona urata. Urata, ho capisco, capisco. Buongiorno. Buongiorno.